Ciao, sono Andrea e frequento il corso di amministrazione, finanza e marketing. Sono certo che voi conosciate i siti più famosi di shopping online, ad esempio Amazon, eBay e Zalando. Oggi vi mostrerò una cosa. Questo è il nostro sito. Si tratta di un'esercitazione fatta per dimostrarvi cosa c'è dietro nella vetrina web. Questo è quello che ho creato per realizzare ciò che alla fine vedete. Facciamo l'ordine. Bella questa di certe bianca e anche questa felpa blu. Aggiungiamola al carrello e completiamo l'ordine. Ciao ragazzi, sono Antonio Di Blasi e sono docente di amministrazione, finanza e marketing. Cos'è amministrazione, finanza e marketing? E' quello che una volta si definiva commerciale. E cosa fanno i nostri ragazzi in questo indirizzo di studi? Si formano per diventare manager, per diventare imprenditori e per diventare i futuri commercialisti. Ma vediamo in concreto cosa sono in grado di fare. Oggi vi mostro cosa succede dopo il click. Allora, verifichiamo cosa c'è in magazzino. Ok, perfetto. Abbiamo 100 felpe e 100 magliette. Prepariamo la scheda cliente. Ok. Indichiamo la merce acquistata. Diamo l'incarico al magazzino di preparare il pacco. Prepariamo la documentazione necessaria. Prepariamo la fattura. Ordine completato. Andrea paga con bonifico. Felpa blu. T-shirt bianca. Fatto. Dimenticavo. Se volessi lavorare anche da casa, potrei essere smart. Rieccomi. Ovviamente questo è solo un piccolo saggio di quello che i nostri ragazzi sanno fare. Ma se vi abbiamo ispirato o anche semplicemente incuriosito, non esitate a contattarci perché siamo qui per rispondere a ogni vostra domanda. Grazie a tutti. Grazie a tutti.